E do il suo benvenuto al suo gemello separato dalla nascita Stefano Bettarini detto il Paolo Tramezzani della Cadelliscio Stefano una prima domanda che volevo farti, una domanda calcistica Nella tua agendina c'è qualche numero che non usi più, anche prefisso? Ma di allenatori o di direttori sportivi? No, volevo dare un'occhiata alla tua agendina e qualche numero Gene lo sai, quello che è mio è tuo, ci mancherebbe altro E' nostro, qualche numero ce l'ho anch'io Va bene, allora approfondiremo dopo questo aspetto Io per i pochi che non ricordassero Stefano Bettarini Vorrei far vedere questa clip che abbiamo preparato con i momenti più luminosi di una vertiginosa carriera Vediamo Bettarini Ti lascerò scegliere Ti lascerò anche sbagliare Cosa fate? Ci prendiamo la tua macchina Mettiti là, bocca, p***a! Andiamo, bella! Stupato! Ehi, ehi, stupato! Quella che è, ormai? Andiamo, andiamo! Era uno scherzo, vediamo davvero un momento saliente e importante della carriera di Stefano No, ma dai, non è questo, dai, vediamo veramente il momento, una cosa di Stefano Vediamola veramente, dai Era uno scherzo No, no, questo io quando vedo un gol così, io dico no, non è possibile Ma scusa, ma non potresti, io ho visto oggi Castellini, non potresti giocare tu ancora nel Bologna, ragazzi Castellini, tu sei molto, almeno non dico di giocare tu al posto di Castellini Ma almeno presentare Castellini alla Perego, che faccia qualcosa lui con la Perego, non è possibile Ma glielo possiamo presentare? Eh, appunto Fissiamo un incontro Tu, scusa, ma perché hai smesso? Giocavi a Bologna, eri servito e riverito Sei del 72, c'hai soltanto 36 anni, sei nel pieno della maturità psicofisica Cosa ti costa dare una mano al Bologna? Ma perché a Bologna non a Parma? Ma al Bologna, al Parma, a qualunque squadra Ma Castellini dove c'è? Castellini a Bologna, Gioca Sì, sicuro Stiamo pensando di rientrare Ah, sta pensando di rientrare Entrambi, stiamo pensando di tornare a più casa Eh, il subordine, scusa, ma adesso io volevo, a proposito dell'età, io volevo far commentare con voi Grazie a tutti